Grazie a te. Dicano che la nostra televisione è la più seguita al mondo. È verissimo. A che te le senti a dire queste cose? Le verissime doro anche 50 euro in più. Io sapevo che Star TV è una delle più seguite. Sì, anche a livello internazionale. Anche a livello del segno. Ma addirittura dalla Polinesia ci hanno chiamato. Sì, infatti. Complimenti. C'è Star TV? E ci vuoi fare un augurio? A Star TV. Potevamo fare proprio un augurio. Un augurio a stare soprattutto a Carlo Ammedrana, a Michele, a Vina, in Dimenticato. E però io so una cosa di questa televisione che è seguita a livello internazionale. Penso che dal Madagascar ci hanno chiamato. Io ho un piccolo déjà vu. No, dalla Polinesia. Addirittura. Bisogna fare però gli auguri in particolare. Sempre a Carlo Ammedrana, Michele, Guaile. Auguri. Auguri. Ciao. Ciao. Solo un saluto alla nostra TV per gli auguri di Natale e Star TV. Un saluto alla nostra TV. Ah no, Star TV. A Carlo Ammedrana e Michele Guida. Buon Natale. Carlo Ammedrana e Michele Guida. Buon Natale da Greg e Lillo. Sempre grandi. Sempre grandi. No, no. A loro. A voi. Un saluto per Sorrento. Ciao, Sorrento. Siete i numeri uno. Città meravigliosa. La Star TV ci dai un auguro per Natale? Auguri. Buon Natale. Grazie. Prego. Fausto, solo un auguro per Natale alla nostra emittente Star TV. Star TV? Ehi. Antena 3. Star TV, Antena 3. Buon Natale. Indovina chi viene a Natale. È il vostro fin di Natale. Mi raccomando, eh. Non mi derudete. Ormai sei Sorrentino. Io? Sono Sorrentino, sì. Però sono anche Brizz. Penso a far riderissimo la... Ti piace? No, no. Mi piace. Sono dieci anni ormai che vengo qui a Sorrento e mi diverto sempre a curiosare anche nei film che hanno fatto gli altri perché qui ci sono degli assaggini e delle primizie e anche gastronomiche, eh. Non solo cinematografiche. Inizia in chiusura. L'ultimo saluto di un auguro di Natale a Carlo Ametrano e a Michele Guida. Michele Guida e Carlo Ametrano. Tanti auguri di Buon Natale a voi, alle vostre famiglie. Andate a casa. Basta lavorare. Chiudi questa telecamera. Ciao. Direttore Carlo, possibile un auguro di Natale? Un auguro alla Star TV Antenna 3 per un felice anno? Auguri a tutti gli spettatori Star TV Antenna 3 e mi raccomando andate al cinema, ma tutti i giorni, tutte le sere e anche tutte le notti. Quello soprattutto. Antenna 3, tante belle cose, buon Natale, tanta felicità, tanta tranquillità e soprattutto tanti colpi di fortuna. Voglio chiedere sempre Sorrentino. Sempre Sorrentino. E questo non c'è neanche le due. Un intervisto con il mio carissimo, grandissimo amico. Un auguro per Star TV, la tua famosa Star TV. Un auguro per Star TV e speriamo che il Presidente ci accattasse un'utersine. chiedeva. Perché? Perché? Perché ci hanno accattato un'utersine. Chiedeva. Va buono. Presidente, accattateci un'utersine. Presidente ha detto? Accattateci un'utersine. Eh, eh, eh. E ci manca. Questo è un amico mio di Star TV. Star TV Antenna. Vuole un terzino? C'è il Presidente davanti, chiediti quello che vuoi. Ma lui è interista. Ah, è Mazzarri. Milanista, Milanista. Vedi, però ha azzecchiato la città.